Rispondiamo a Marianna. E quindi è vero che la musica guarisce? Dunque sì, Marianna, è vero che la musica guarisce. Allora, io ho fatto un video sui gatti e spiego che le fusa dei gatti... Ah, sei tu quello che fai dai gatti, sì. Il video dei gatti va a fare le fusa su una determinata frequenza inerzia, dove curano diverse cose. Ovviamente ogni animale ha quel suono che in risonanza va a guarire. Ora, scientificamente che cosa avviene? Se noi abbiamo un bicchiere, in questo bicchiere noi inviamo un suono, questo suono fa vibrare il bicchiere di cristallo, che poi inizia a ondulare e a spaccarsi. Allora, arrivando a una certa frequenza. Bravissimo. Cosa avviene? Perché la musica guarisce? Perché se tu hai un suono che ti porta armonia all'interno del tuo DNA, all'interno dei tuoi atomi, iniziano a risuonare in un modo corretto, quindi in automatico vanno a purificare il tuo corpo. Inversamente, in modo da che si capisce meglio. Una malattia arriva quando c'è uno squilibrio energetico. Tu hai consapevolezza che la musica, in questo caso, va a sintonizzarsi con l'energia, e quindi di conseguenza l'energia va a riconfigurarsi in un modo armonioso, sai che determinate frequenze ti curano. Grazie a tutti.